Il 2 luglio io ci sono, perché Italia Nostra, di cui faccio parte, c'è da 60 anni a tutelare Venezia, i suoi abitanti e la sua laguna. Noi il 2 luglio ci saremo per garantire a Venezia un futuro da città e alla laguna un futuro da laguna. Il 2 luglio io ci sarò, perché qui sono nata e soprattutto qui sono tornata a vivere e qui voglio rimanere, non me ne andrò. Penso che una città senza i suoi abitanti non sia più una città, io penso che gli abitanti di Venezia siano importanti come la Basilica di San Marco.